Allora, Parigi, 1924, come Parigi? Siamo già stati a Parigi e torniamo a Parigi per via della baronata, del colpo del barone. L'ultimo. L'ultimo colpo, però è stato un bel colpo. Esatto. Perché Parigi? Ci siamo appena stati. Appunto. Come, Parigi, Parigi, una volta c'era l'Expo, ma perché? Con tutte le città che vorrebbero avere le Olimpiadi. Allora, il barone aveva sto colpo di fare parecchie promesse che non sempre poteva mantenere. Però, per esempio, Roma dice, oh, ci siamo anche noi. No, c'eravamo già, ce l'avevi promesse, c'è stato il problema dell'eruzione del volcano. Giusto, giusto. Che, quindi, Giolitti ha mandato i suoi di là, perfetto. E ma noi siamo Roma, eh? Non è che siamo cambiati nel frattempo. Marmi, stadi, senso dell'antichità. La storia, bene, ma fino a un certo punto. Il barone, però, vi fa capire, non è il momento perché l'Italia del 1924 ha sostanzialmente già gettato la maschera e recentemente è stato ucciso Matteotti. Questa cosa fa il giro dell'Europa e la posizione dell'Italia nello scacchiere internazionale, anziché, ancorché bellicosa, non è particolarmente apprezzata. Tra l'altro si va a Parigi, dove già tanti erano fuggiti dall'Italia, avendo intuito che deriva stesse prendendo il fascismo. Quindi il barone dice, ragazzi, dovete aspettare. Gli americani, gli americani, dicono, ma, scuola, noi continuiamo a venire col transatlantico per vedere questi qua che fanno le Olimpiadi in posti che per noi sono delle latrine. Noi a Los Angeles stiamo costruendo delle robe che qui sarebbero, ma non il futuro, sarebbero quattro o cinque civilizzazioni dopo, eh, barone. E ci avete ragione anche voi, ma siamo già stati in America. Però voi state lì tranquilli. Terzo, i tedeschi. Noi no, voi non solo non vi diamo le Olimpiadi, neanche potete venire a queste. Vi segnalo che, peraltro, le truppe franco-belghe nel 1923 occupano la Rarur, che attualmente sarebbe Germania. E l'idea di strizziamo i tedeschi fino alla consunzione è molto diffusa in Europa. I tedeschi saltano anche queste Olimpiadi. Però, visto che sono le ultime del barone, facciamo due calcoli. Quelle dopo le deve assegnare per forza a un paese neutrale e le piglia l'Olanda. Quelle dopo, casualmente, Los Angeles, 1932, e nel 1936 si va a Berlino. Quindi lui doveva tenere tutti quanti i buoni. A parte Roma, che fino al 60 non entra più nei premi, lui teneva buoni tutti. In queste Olimpiadi il motto delle Olimpiadi Cizius Alsus Fortius viene utilizzato per la prima volta. Si vendono le bandiere a cinque cerchi. Il problema è, oh, ma dov'è che andiamo a farle a queste Olimpiadi? Nel senso che lo stadio, i franzesi ce l'hanno? Ce l'hanno. E sarà lo stadio di Colombe. Lo stadio di Colombe, in questi giorni, mentre si sta ancora giocando a Rambi, perché il Racing di Parigi gioca a Rugby, lì, verrà trasformato nella città della Pallamano, e non ho niente da dichiarare. Ma quello è lo stadio delle Olimpiadi, sarà in parte lo stadio anche dei mondiali di calcio, che ritorneranno in Francia in un clima ancora più teso, perché nel frattempo la situazione europea si è deteriorata. Nel frattempo gli americani sono arrivati, e sono arrivati con la solita nave, però stavolta una nave di qualità, e attenzione. Ma queste sono le Olimpiadi, del Glamour e della radio. Per la prima volta le Olimpiadi si sentono alla radio, in giro per il mondo. Ed è il Glamour perché in tribuna ci sono teste coronate, tra cui Haile Selassie, Rastafari, che poi scopriremo in altre parti della storia, anche successiva. Edoardo Di Galles, futuro Edoardo VIII, quello che rinunciò al trono per amore, creando uno scandalo assoluto, forse se avete visto il discorso del re, è la prima parte della storia. E in tribuna, raga, Douglas Fairbanks e Mary Pickford. Cioè, Pete Jolie, due bambini dell'asilo, rispetto a loro all'epoca. Le mega superstar. Le mega superstar di Hollywood scendono a Parigi per vedere le Olimpiadi. Ah, c'è le Glamour. E quindi queste Olimpiadi prendono subito quella linea lì. Si fa sul serio, sono diventati un evento planetario, teniamo fuori alcuni. Ma ragazzi, che show. Grazie. Grazie.